Bibiana si tuffa nel gusto dell'estate 2024 con la seconda edizione del Grigio Summer Friends, manifestazione dedicata agli amici del maiale Grigio del Casentino. L'appuntamento è per il 5 e il 6 luglio a Sochi. Il Grigio Summer Friends nasce da un'idea mia di massi e della maniera, che siamo i tre soci di GrigioDelCasentino.it, che è l'azienda che si occupa della commercializzazione del Grigio in tutta Italia e anche nel resto del mondo, di far conoscere le persone che abbiamo via via conosciuto nelle varie fiere che abbiamo fatto in giro per l'Italia e in giro per il mondo. Via via ci è capitato di conoscere tante realtà, tante eccellenze gastronomiche di altissima qualità e ci piaceva farle conoscere alla nostra valle, al nostro paese, alla nostra comunità. Quindi abbiamo provato a invitare alcune realtà che conoscevamo, con cui avevamo installato dei rapporti di fiducia e empatici interessanti e queste realtà sono incredibilmente state entusiaste del progetto e sono venute. Per l'occasione Sochi sarà chiusa al traffico e avrà la possibilità di essere visitata sia nel suo centro storico che nella sua piazza. Infine, tanta solidarietà parte del richevato andrà alla proloco di Sochi e l'associazione Aido. L'associazione Italiana Donatori Organi, che avrà proprio uno stand presente durante la manifestazione in cui potrà dare tutte le informazioni del caso a chi è interessato e proprio per sostenere quella che secondo noi dovrebbe essere una pratica sempre più diffusa perché alla fine si fa del bene agli altri.